Benvenuti alpine! Anche se per poco tempo sarete parte integrata della nostra piccola comunità, che sono sicuro sapete coinvolgere con la vostra vitalità, la vostra amicizia, con il vostro modo di comunicare un unico e alpino. Sarà bello vedermi girare per la via del nostro paese, noi a Picchi e a Montecchiaro ci siamo andati tutti da parte per cercare di rendere la vostra permanenza la più grande possibile e che il tempo ci assista. Saluto la sezione di Fermona-Mantolo, gruppo scolmaggiore sezione di Trento, il gruppo di Creazzo, il coro sezionale di Parco-Vontorsano, il gruppo del P1 della Valca-Monica, Novelle, Sellero, Valle Saviore, Nadro, Osso Miperiore, il tono amici della Lontagna, Cari di Lasti, la corona del San Giorgio Upparato.